Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Perché faccio questo video? Faccio questo video per ragionare un po' con voi su alcune scelte che ho fatto su questo canale, ovvero ho fatto una scelta. Voglio portarvi dei contenuti legati anche alla finanza personale, in questo caso finanza personale che è interconnessa col calcio. In questo caso voglio portarvi degli aggiornamenti su Sorair. Cos'è Sorair? Sorair è una piattaforma, una sorta di fantacalcio, dove gestiamo delle squadre virtuali dove si acquistano e si vendono degli NFT che hanno delle sembianze di carte di calciatori. Questi NFT vengono suddivisi su diverse categorie in base alla rarità delle singole carte. Queste singole carte possono essere comuni, limited, rare, super rare e uniche. E quindi voglio spiegarvi un po' la mia strategia. Ho iniziato a spiegarvi questo gioco circa un mese e mezzo fa e vi lascio il link in descrizione. Alt, voi penserete, adesso ci fai iscrivere e colpo ci guadagna soldi. No, colpo non ci guadagna soldi, però se voi, con il link e iscrizione che trovate lì sotto, vi iscrivete, comprate 5 carte all'asta, riceverete una carta limited. Io che cosa otterrò come beneficio? La stessa carta limited che otterrete voi. Per cui è una strategia con link refer al win to win. Vinciamo insieme, praticamente. Poi è vero, al trentesimo io riceverò una carta unica. Però, questo è un altro discorso, fatto sta che io non prendo un euro nel sponsorizzare una piattaforma simile. Voglio solamente dirvi una cosa, non buttatevi a pesce a investire in una piattaforma che non conoscete. In questo video voglio solamente darvi degli strumenti e voglio suggerirvi dei contenuti interessanti, seri, di approfondimento, perché sto collaborando con OCV Sport di Andrea Panciroli, il pancio, noto il pancio. Il martedì sera abbiamo creato questa rubrica su Sorair, dove con altri due esperti, in particolare Massimiliano, in particolare il buon Sbollas, ma anche con i Miscouting, che comunque conosce molto bene la piattaforma, diamo dei consigli, condividiamo le strategie, cerchiamo di ragionare insieme sul miglior modo possibile per poter veramente fare qualche soldino. Ora, io non capisco la riluttanza che c'è nei confronti di queste piattaforme, quando invece con metodo, con consapevolezza, si possono fare delle cose molto interessanti. Non comprendo veramente questo metodo italiano di ragionare sui soldi. In Italia è molto più tollerato il betting e il gambling, anziché queste tipologie di possibilità di investimento e di guadagno, dove magari il limite viene veramente calcolato, ma viene soprattutto arginato con delle strategie serie ed efficaci. Questo è il mio pensiero a tal proposito. È per questo che io condivido Sorair, è per questo che io ho investito su Sorair, perché il rischio non è lo stesso del betting, riusciamo ad arginare quella varianza che c'è nelle scommesse, per esempio. Oltretutto c'è un altro discorso da fare, un discorso che spesso non fa nessuno. C'è una cosa che non dovrebbe far dormire le nostre generazioni, ovvero noi attualmente con i nostri contributi andiamo a sostenere il sistema pensionistico italiano. Siamo praticamente i contributi che paghiamo le pensioni a chi attualmente percepisce una pensione, perché l'Italia è un paese che è altamente inflazionato da questo punto di vista. Il problema è che la demografia non va a nostro vantaggio. Quando saremo probabilmente vecchi noi, chi ci pagherà le pensioni? Se numericamente i contribuenti di quel periodo sono ovviamente molto molto inferiori a noi numericamente, questa è una bella problematica. E questo dovrebbe farci riflettere un pochettino su come cercare di creare una strategia sul lungo periodo che porti ovviamente ad incassare qualcosina in più. Sorera ovviamente non la vede su questo piano, ma fa parte del paniere di opportunità che spesso il trading ci offre. In questo caso il trading si fa veramente col player trading, con un calciomercato ben fatto. Allora, io ragazzi vi do dei consigli. Su Discord c'è il canale di OCV Sport, dove io, Sbollas e altri utenti che ormai hanno una certa dimistichezza con la piattaforma, insomma, se hanno lì di un consiglio, ovviamente non vi diciamo compra questo, compra questo. Vi diciamo qual è il ragionamento alla base che deve portarvi a fare delle scelte. Non potrò mai dirvi compra questo che fa i soldi sicuri, questo no. Non è questa tipologia di consigli che diamo. Però vi diamo una base, un metodo per poter lavorare in autonomia e questo è importante. Quindi, mi raccomando, sotto trovate il link al canale Discord di OCV Sport, dove voi potete accedere. Quando facciamo poi delle giornate Q&A, voi potete venire e chiederci delle informazioni. La prossima giornata è lunedì. Quindi lunedì alle 18.30 circa, lunedì 4 aprile alle 18.30, risponderemo a tutte le vostre domande, dubbi e perplessità. Il martedì sera, sempre su OCV Sport, faremo delle puntate di un'ora, un'ora e mezza, due, dove parliamo esattamente della strategia da seguire. Vediamo un po' gli avanzamenti che stiamo facendo con la squadra di OCV Sport. Vediamo un po' come sono andate le competizioni e i tornei che Sorair organizza, tornei a premi ovviamente. E vi raccontiamo un po' qual è la strategia. Devo essere sincero, io ho investito un po', una bella cifra. Però adesso ho anche fatto un circa 300 euro di plusvalenza. È stato un andamento molto molto lento, non li ho tenuti dall'oggi al domani, è servito tanto tanto tempo, circa un mese e mezzo per fare questi 300 euro. Una somma che uscilla ovviamente anche in base all'Ethereum, che è la criptovaluta sulla quale gira e si sostiene il sistema Sorair. Però ci sono delle novità, vi lascio tutti i link in descrizione per informarvi bene e parlare con cognizioni di causa e senza pregiudizio. Quindi mi raccomando, vi lascio il link Discord, il gruppo Telegram con Emi Scouting, vi lascio il link al video in cui Sbollas presenta tutte le novità della piattaforma. Vi lascio il link alle puntate dove veramente vi spieghiamo come da principianti dovete approcciarvi a questa piattaforma. Quindi una volta che vi siete sparati tutti questi contenuti, fate domande, continuate, poi dopo una volta che avete una certa consapevolezza di quel che state facendo, a quel punto magari ci versate i primi soldini e iniziate a ragionare un po' in ottica Sorair. Come posso giocare, come posso divertirmi, come posso tenere quella carta, come posso iniziare a smanettare un po' sulla piattaforma. Però la prima cosa, il primo approccio che dovete avere è la curiosità, la voglia di avere delle risposte chiare alle vostre domande. Informatevi, informatevi, informatevi ragazzi. Vi lasciamo tutti i link sotto ovviamente. Vi diamo con un sacco di informazioni, quindi prendetevi tutto il tempo del mondo. Intanto iscrivetevi alla piattaforma col mio link referral e poi alla quinta carta acquistata all'asta avete una carta limited gratis. Che schifo, non fa, sono soldi come direbbe Maccio Capatonda. Però con calma, con un approccio veramente più scientifico che di pancia, mi raccomando, un approccio razionale che irrazionale. Lasciate l'istinto, il panico da parte, siate tranquilli, andate a sparare di questi contenuti. E ci vediamo ovviamente sia su CV Sport, sia sul server Discord e sia ovviamente sul canale Telegram, sul gruppo Telegram di Emi Scouting, fatto apposta per Sorare. Vi mando un grosso abbraccio e insomma, questo è tutto, ci aggiorniamo alla prossima. Ciao belli e sempre fino alla fine.